buonasera a tutti e buonasera a tutte voi spero stiate bene come ho scritto e vi vedo già moltissimi quindi io inizio a salutare perché ci tengo ci tengo ad avere questo questo rapporto con voi anche se da lontano chissà che se un giorno noi ci possiamo incontrare in qualche modo da qualche parte sarebbe sarebbe bello saluto manuela daniela grazia saluto peter saluto marisa marina saluto gianluca saluto liberamente da san desiderio alba saluti saluti veramente a tutti stefi marina è un piacere vedervi qui e sapere che leggo i vostri nomi ai vostri commenti che mi fate e pian piano ricostruisco anche un po dei vostri interessi delle vostre peculiarità anche buonasera cristina buonasera gabriella benvenuta buonasera osvalda buonasera fulvio buonasera gemma buonasera gustav maler che spero che tu abbia un nome tuo buonasera ferri buonasera a tutti veramente a tutti buonasera rasan buonasera antonio buonasera nico buonasera maestro ripeti sono una nuova follower trovo i suoi video davvero molto interessanti istruttivi finalmente posso seguire una sua diretta ne sono molto felice anch'io ne sono molto felice e spero che lei sia contente e soddisfatta soprattutto alla fine al termine di questa diretta perché all'inizio è facile esserlo buonasera silvia buonasera alessia buonasera frank buonasera lino alba maria patrizia non vorrei dimenticare qualcuno a nicoletta buonasera martino e buonasera m qui stasera volevo introdurre piano piano un aspetto pittorico che ci sta a cuore a tutti quanti perché tutti quanti siamo un po figli di quella tradizione poi in quanto italiani lo siamo in maniera veramente molto forte perché è un periodo della nostra storia che ha veramente illuminato e ha costituito proprio la nostra la nostra nazione questo periodo ma non è ovviamente della nostra nazione che parliamo ma in generale di questo fenomeno che è stato il realismo e soprattutto di una persona che è stata accostata a questo a questo fenomeno culturale soprattutto per quanto riguarda la pittura che è Gustave Courbet allora innanzitutto devo dire che vi sono vi si è via un po di confusione perché molte volte i questi tre termini che io vado a dire si intrecciano e si incrociano molto e creano anche un po di confusione perché verismo naturalismo e realismo sembrano quasi intendere la medesima cosa vediamo anche nel campo della letteratura vediamo anche soprattutto nel campo di una parte fondamentale della dell'epoca che era il melodramma che non era una parte marginale come noi la possiamo vivere adesso però l'opera il melodramma era una parte fondamentale anche il teatro lo era e chiaramente i due i due diciamo filoni sia il teatro che il melodramma e la pittura seguivano un po la stessa strada perché noi abbiamo visto che i percorsi pittorici dal punto di vista proprio delle immagini della costruzione della scelta dei soggetti erano simili noi pensiamo a i vari personaggi storici li ritroviamo anche nei melodrammi e spesso li ritroviamo anche nei romanzi e quanta letteratura nell'ottocento che è stata prodotta e ci siamo completamente dimenticati di essa molta molta moltissima ma come sempre succede in tutte le epoche poi il setaccio fa passare solo pochi nomi e noi ci ricordiamo solo di quelli mentre vennerano molti molti che lavoravano che dipingevano che scrivevano che 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 suonavano che componevano musica e quindi ed erano anche inseriti tutti loro nella società del loro tempo e così anche Courbet è fondamentale fondamentale riuscire veramente a comprendere come sia importante il periodo in cui viene a nascere un pittore in cui viene a operare un pittore perché se noi veramente non diamo un pochino uno sguardo alla storia alla storia al al mondo in cui è introdotta questa persona fatichiamo veramente a comprendere questa persona e la sua pittura e poi riusciamo a fatica a comprendere anche il fatto che queste persone che noi nominiamo per esempio in questo periodo che sono mille che sono coro che sono curbe che sono angre erano tutte persone che erano vive contemporaneamente però ovviamente avevano diversa età e allora curbe si viene a trovare in una posizione di mezzo fra un momento in cui finisce qualcosa e un momento in cui inizia qualcos'altro ma che cos'è fondamentalmente che inizia e che finisce con il 1800 praticamente nel in questo secolo 1800 vi è l'ultima possibilità per il pittore di avere una committenza e questa committenza è data dal salon per esempio in Francia è data dalle esposizioni come nell'accademia di della Royal Academy a Londra dove il pittore si mostra e quindi accoglie le persone che vengano a vedere la sua pittura e lui presenta il suo carnet presenta le sue il suo il suo libro presenta il suo diciamo i suoi fogli il suo portfoglio e quindi dice alle persone vedete io sono questo qui faccio ritratti faccio dipinti storici faccio dipinti allegorici eccetera eccetera e quindi le persone si fermano verso vicino a questo personaggio parlano con lui e poi decidono di farsi fare un dipinto quindi la mediazione non esiste esiste proprio il contatto fra pittore e persona che vuole farsi fare un dipinto ovviamente di mezzo iniziano ad esserci i giornalisti e i critici d'arte quindi che parlano più o meno bene di una persona e in mezzo a questo c'è la storia che incombe quindi Courbet si trova ad un certo punto ovviamente a decidere a decidere di costruire una storia nel presente cioè a rappresentare una storia del presente nel senso di cercare di far diventare storico un momento comune normale reale ovviamente che gli capitava di vedere sotto gli occhi e che lui pensava che sarebbe stato meglio puntare il faro per farlo proprio risplendere e risuonare dentro quel posto straordinario incredibile che era il salone quindi tu presentavi le opere c'era una commissione che le ammetteva ovviamente più le opere erano vicine a un certo tipo di sentimento che era quello proprio delle dell'opera o religiosa o dell'opera storica o dell'opera o del ritratto ritratto di famiglia senza nessuna implicazione altra che quello andava molto bene le cose si complicavano pian piano quando le proposte erano erano diversificate ed erano diverse per esempio mi viene in mente un dipinto che fu respinto al salon di Paul Cézanne che ritraeva il suo grandissimo amico tra le cose un quadro molto ma molto grande il suo amico su una sedia a rotelle molto molto grande ecco questo dipinto veniva respinto e chiaramente i pittori potevano fare due scelte o dipingere qualcosa che potesse essere in grado di poter accontentare le persone del salon oppure di fare qualcosa di particolarmente diverso e allora Courbet sarà per le sue frequentazioni intellettuali perché conosceva Bozer conosceva tutta una serie di intellettuali che gli davano anche degli spunti particolari ha cominciato ad interessarsi a quello che aveva vicino e quello che aveva accanto e c'è un dipinto che non vi posso far vedere perché nessuno vi può far vedere perché è stato distrutto nel 1945 come tanti altri o quando tante altre opere sono state distrutte nel 1945 che è lo spaccapietre come lui passando per una via vide una persona che spaccava due persone che spaccavano le pietre e fu molto impressionato da questo e allora chiese a loro a queste due persone ovviamente di venire nel suo studio e di posare per lui allora lui fece questo grande ritratto grande questo grande dipinto che si chiamava lo spaccapietre e lo presentò al salon come presentò anche al salon un altro dipinto molto grande che si chiamava il Fulerale di Ornan perché lui è di Ornan di questo paese della Francia non è di Parigi e poi un altro grande dipinto che si chiamava l'atelier dove lui presentava il suo atelier e dove nel video che ho fatto nella volta scorsa io descrivo anche questo critico d'arte che entra dentro questo atelier e vede queste due mucche e vede questi pittori che le stanno dipingendo ecco questi quadri non ve li mostrerò perché sono famosissimi e non mi aiutano a entrare dentro dentro Courbet io invece voglio entrare dentro la sua pittura prendendo a prestito il fatto che lui si concentra sì sui soggetti però li descrive attraverso il suo modo di dipingere attraverso il modo di dipingere che lui cambia in funzione della rappresentazione che lui fa perché proprio mette le mani proprio dentro il paesaggio e dentro la terra quasi come se la sua pittura fosse una scultura che cercasse veramente di modellare il reale le cose che lui vedeva che lo colpivano nella realtà e che secondo lui non dovevano essere esposti in maniera aulica cioè in maniera pomposa in maniera simbolica ma proprio dovevano essere posate e fatte vedere per come erano per quello che erano anche se l'immagine poteva essere di sempre poteva sembrare scura poteva sembrare anche indisponente poteva sembrare anche non piacevole da vedere ma questo è quello che lui faceva pensate solo a un dipinto che ovviamente adesta ancora molta curiosità nonché qualche qualche attimo di imbarazzo che è l'origine del mondo dove abbiamo questo proprio organo genitale femminile messo molto in primo piano ed il quadro è piccolino e lo potete trovare la guerre d'orsè e quello però non è un non è il dipinto come tutti gli altri dipinti non mostrano delle sue modelle che lui dipingeva anche non mostrano una bellezza per forza ideale mostrano la persona com'è con tutti i suoi difetti anche tutti i suoi pregi però la fanno vedere la mostrano la ce la ce la disegnano proprio ce la ce la raccontano così e attraverso il suo modo di dipingere lui cerca di ricostruire tutta la sua vita l'espressione e l'esperimento e l'espressione pittorica adesso io comincerei a farvi vedere innanzitutto questo piccolo quadro perché è un quadro del del 1849 che è lo spacca che sono gli spacca pietre però è una fotografia ovviamente ci sono delle fotografie molto molto antiche ricostruite quindi colorate sopra ma solo per farvi vedere proprio il quadro non per andare dentro di esso perché non esistono delle fotografie molto molto più interessanti di questa e adesso vado a vedere come condividere il lo schermo per farvi vedere questo allora ok adesso aspetto un banchimino che sia condivisa e vi faccio vedere questo questo oggetto che è questo dipinto come vedete in questo quadro i colori sono pochissimi perché la concentrazione è solamente sul su pochi colori scarni che facciano veramente capire quanto tutta la scena possa essere densa e il e lo sforzo e il sacrificio delle persone che stanno davanti a lui deve essere espresso in maniera fondamentale in maniera chiara una cosa importante e interessante di questo dipinto è che un dipinto in cui i visi delle persone non si vedono quindi con condotto anche con grandissimo pudore e quindi vi è questa 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 striscia questa questo scuro dove queste persone emergono e c'è questo chiaro sulla sulla destra che diciamo in qualche modo fa favorisce il il nostro sguardo a concentrarci sulla forza e quindi sulla su questo martello che sta picchiando qualcosa che non picchierà che non picchierà mai da nessuna parte se noi cerchiamo di vederlo un po da vicino però vedete l'immagine è già sgranata perché non esistono di mani di immagini più forti più 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 intense più 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 chiare qua vediamo una piccola natura morta però molto molto semplice che una natura morta che racconta veramente con poca pennellate forti quello che è la giornata di quello che è la sosta di queste persone che è veramente piccola e veramente esigua vedete non non ha problemi a mostrare i vestiti strappati non non enfatizza questo proprio in quel momento lì lui dipinge dipinge quello che sta vedendo chiaramente noi possiamo anche domandarci ma il realismo c'è sempre stato perché se noi pensiamo a certi dipinti non so mi viene in mente il mangiatore di fagioli di carracci mi vengono in mente i pellegrini di caravaggio ma molti altri dipinti che possono aver preceduto anche non è che le persone di prima i pittori di prima non vedessero questo ma chiaramente lui vuole 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 prendere queste persone e farle diventare e costruire un mondo come quello del quadro in cui loro possono riconoscersi e possono avere la stessa dignità che può avere un quadro che simboleggia o ritrae Napoleone magari che passa dal San Bernardo oppure altre qualche 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 dignitario qualche nobile di rango ecco lui dice questa la realtà queste persone debbono essere rappresentate perché io sono un uomo del mio tempo e quindi è questo che rappresento rappresento il mio tempo per cui il fatto che lui sia sceso si sia avvicinato a queste persone e lo abbia le abbia chiamate a sé le abbia convinte anche ad andare nel suo studio perché penso che che sia stato ci debba essere stato un buon convincimento a fare questo e queste persone a posare per lui quindi immagino come si siano sentite queste persone un po' un po' magari un po' sorprese però abbiano accentato di buon grado di fare di fare questo e lui ovviamente sicuramente avrà promesso loro di non far di non mostrare il viso ma di mostrare veramente la fatica la fatica è il gesto di quella di quella realtà che stavano vivendo in quel momento che molti che molti moltissime persone stavano vivendo e non è un caso che il realismo praticamente non è un caso che il realismo incontri in corbe una propensione a rappresentare quel mondo che viene viene che racconta ad una città che si unisce ad una campagna che viene sempre più inglobata invece dalla prima e quindi questa è come se lui in qualche modo diciamo imputasse al lavoro e alla città la dispersione e la disgregazione anche della persona al di là poi della pittura con cui lui lui dipingeva mi viene in mente se avete occasione di leggerlo un bellissimo un bellissimo romanzo che è la bottega dell'antiquario di di dickens dove dove il vecchio e la bambina fanno questo viaggio e partono dalla città per arrivare in campagna finalmente e praticamente lui attraversano delle fabbriche attraversano l'inferno dentro e che dickens non era forse in quel momento realista quindi realismo in un certo senso per noi è un'acquisizione è interessante ed è molto bello vedere immagini molto anche comune avere immagini della nostra realtà ma all'epoca non era così scontato quindi si potevano anche in qualche modo digerire e sopportare le immagini bucoliche dei contadini che magari contenti eravano senza fatica erano contenti di quello che stavano facendo mentre invece a rappresentare la loro invece fatica il loro dolore sulla terra questo invece era affare del dei pittori degli scrittori degli dei musicisti che in quel momento vivevano questa questo sentimento e capivano che bisognava rappresentare questo vi era un'urgenza di rappresentare questo e proprio rappresentando questi soggetti questo tipo di soggetti forse è cambiato anche il loro modo di rappresentare perché ovviamente non dico che la pittura di curbè scusate si faccia più ruida per il soggetto che rappresenta però sicuramente andando dentro la sua vita e andando dentro la realtà e poi conoscendo anche i momenti difficili di reazione popolare perché lui sappiamo che partecipa alla comune del 1871 e poi viene arrestato e successivamente dopo l'arresto viene viene condannato anche se viene liberato dopo sei mesi viene dopo viene liberato dopo sei mesi di prigione e lui si ammala in prigione di ben cosa non sono ancora riuscito a capirlo e lui però ha abbattuto mentre lui faceva parte della comune ha ordinato l'abbattimento della colonna che era un monumento che era un monumento che praticamente diciamo che veniva passato attraverso il secondo impero attraverso attraverso le varie persone che si erano succedute al governo della Francia per rappresentare veramente il simbolo del potere e lui l'aveva fatto abbattere e per questo fu praticamente con la repressione della comune fu condannato allora lui non si perse d'animo non accettò la condanna vivamente e scappò fuggì con un po' di quadri e se ne fuggì all'estero in Svizzera dopo per morire dopo due anni nel 1877 però è strano è particolare è incredibile che tutto questo la sua condanna e la sua partenza il suo dramma si svolge quando noi improvvisamente raccontiamo qualcosa di interessante e di apparentemente più leggero come potrebbe essere la prima mostra impressionista quindi il 1874 75 quando noi vediamo una Parigi delle belle della della dell'inizio della villumiere che noi vediamo questi colori sfavillanti dall'altra parte c'è una persona che fugge perché è è condannata e va a espatriare e va in Svizzera da amici e poi lì andrà a morire quindi facciamo un salto a ritroso vi ho parlato un pochino di lui in questo senso del grande amore che aveva per il vero e lo rappresentano queste immagini che lui che lui che lui ferma e proprio la sua voglia di andare proprio sul posto e in un altro video precedente ho raccontato come lui proprio per dipingere il mare ai tre tassi sia proprio sia proprio andato quasi davanti al mare quasi dentro il mare ma vediamo la sua parabola pittorica come come nasce e come si esprime perché è questo che a me interessa non è tanto parlarvi del quadro del soggetto ma parlarvi innanzitutto innanzitutto di quello che lui in quel momento stava cercando e stava vivendo questo qua è un dipinto che si intitola visita nella vista nella foresta di Fontainebleau del 1855 quindi il 1855 è l'anno in cui lui pubblica quella lettera che praticamente praticamente verrà chiamata poi con il manifesto del realismo ma andiamo a vedere un poco in più in dettaglio questo questo paesaggio che sembra una cosa semplice perché sembrano dei verdi che raccontano un paesaggio molto molto intricato però già da questo noi capiamo che lui non cerca il diciamo non cerca la bella veduta no ma cerca invece il posto dove dove noi diremmo che è come quasi lui volesse andare in un posto e dire questa questa dipinto questa questa immagine che io ho tra le mani l'ho scattata a caso cioè ho preso una macchina e l'ho scattata ho preso il cavalletto e l'ho messo in un posto a caso e lì ho dipinto la prima cosa che vedevo naturalmente noi non sappiamo se era proprio questa esattamente questa però ha domesticato il paesaggio a seconda di com'era la possibilità della 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 diciamo del bilanciamento del quadro stesso per cui noi vediamo due grandi forze forse tre grandi forze abbiamo questo albero che è fondamentale e dall'altra parte abbiamo quest'altra massa qua scura e questa roccia e tutto si svolge attorno a questi tre protagonisti ma andiamo a vedere come sono le sue pennellate perché avremo delle grosse sorprese eccole qui vedete praticamente lui qua troviamo dei colpi di spatola vedete qua noi vediamo una una coloritura molto scura probabilmente lui ha dato tutta questa coloritura scura di questo questo tipo a tutto il dipinto infatti voi vedete che questo cielo azzurro e viene messo dopo praticamente e quindi va quasi a disegnare quello che lui ha fatto prima noi abbiamo questo tipo di scura e poi queste pennellate che a volte sono fatte con una con una spatola ma a volte proprio sono fatte lui amava fare questo non lavando bene e non asciugando bene i pennelli cioè facendo in modo che certi pennelli gli risultassero un poco più non so come un poco più disordinati e questo gli permetteva di creare questi tipi di disegni che lui costruiva proprio verde su verde per cui non questo non viene fatto chiaramente dal vero e viene macinato il dipinto viene lasciato asciugare e poi viene e poi si interviene sopra e qui è stato veramente molto 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 diciamo molto saggio a andare su un bianco però a fermarsi in maniera tale che questo bianco vedete non possa non diventasse così brillante da prendere totalmente la scena però notate qua e questo che è il particolare che voglio farvi vedere prima ha dipinto questa parte qua poi questa poi questa poi quando il quadro è stato asciutto ha messo queste macchie non si sa come può darsi anche che lui l'abbia messa con le dita perché lo faceva anche questo lo faceva e quindi ha costruito vedete questi segni che hanno dato forza a questo elemento senza il quale questa parte qua non sarebbe a noi comprensibile e poi ovviamente ha lavorato qua e qui ha voluto introdurre questo questo piccolo questo piccolo capriolo molto molto incerto anzi sono due uno e due che li vedete qui ma li li ha tenuti molto molto scuri in modo che proprio fossero quasi quasi invisibili come se noi avessimo dovessimo aver voglia proprio di penetrare dentro il dipinto di andare a vedere quello che lui costruisce e di paesaggi così ve ne sono tantissimi ovviamente l'immagine che noi abbiamo davanti non rende quella che è la sua pittura però vi assicuro che già in questi in questo dipinto che è abbastanza che abbastanza vicino alle opere che lui fa grandi per il salon però comincia già a essere lo studio di ricerca per la pittura che lui potrà poi potrà andare a fare da qui in avanti perché ovviamente lui comincia a vendere qualche cosa comincia a farsi conoscere e quindi comincia anche avere delle committenze ritratti e altre cose che poi gli permettono man mano di riuscire a a vivere e a fare però continuare a fare la sua ricerca la sua pittura che gli piace allora questo quadro qua è 102 e 102 centimetri questo quadro a un metro e due centimetri per 82 e si trova al reichs museum di amsterdam questo quadro qua ed è del 1855 quindi abbiamo parlato di ritratti abbiamo parlato di ritratti e qui c'è una c'è un ritratto eseguito tra il 55 e il 59 non si sa bene quando è una donna in abiti da cavallerizza vedete questa donna qua è chiaramente se voi la paragonate ad esempio ai ritratti di angra anche dello stesso periodo li paragonate ai ritratti di jerome dei vari pittori pompier non vi trovate nulla di tutto questo qui abbiamo uno sfondo veramente veramente scarno molto scarno che però ci fa venire in mente subito la pittura e a noi ci richiama proprio il suo modo di dipingere che abbiamo visto nel quadro precedente però ovviamente qui deve fare un ritratto perché deve venderlo a questa persona però mantiene sempre quella sua forza quella suo carattere proprio che lo distingue proprio di questa pittura molto molto densa andiamo a vederlo nei particolari soprattutto nel volto noi parliamo di ritratti no parliamo di ritratti e ci e ci perdiamo con le velature le non velature eccetera eccetera qua noi vediamo che c'è una superficie dove lui pian piano comincia a mettere i chiari sempre di più e di scuri li lascia sempre in basso di modo tale vedete questa pennellata qua in modo tale che il colore assuma una potenza uno spessore formidabile che sono una delle caratteristiche importantissime della pittura anche in questo bianco finale guardate questa luce secca finale sul 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 colletto come illumina anche tutta questa figura io sarei stato tentato anche a fare questo molto più chiaro e probabilmente avrei sbagliato perché l'illuminazione di questo di questo bianco riesce a illuminare a guidarci in questo viso che ha questa questo sguardo proprio dentro i pensi chissà quello che pensa questa persona però fondamentalmente noi siamo sicuri che l'intenzione sua era quella di regalarci questa persona per come era veramente le mani sono strepitose pochissimi tocchi e ci raccontano proprio tutto tutto il tutto il movimento di queste mani che è morbido e allo stesso tempo è presente cioè sono dei guanti che hanno dentro delle mani però guardate come i tocchi sono sono piccoli io posso andare anche molto dentro per farvi vedere anche le sue pennellate perché sempre è sempre una è sempre una gioia perché è una bellezza andare a vedere un quadro così da vicino immaginatevi poi di essere in un museo e di lasciar perdere veramente ad un certo punto eh il quello che è il soggetto e andare a vedere caspita ma questi due punti di azzurro poi io quando mi allontano cosa diventano andiamo a vedere quello che diventano ecco quello che diventano guardate un po' guardate un po' qua come sono marezzati come sono sprezzati questi come è sprezzato questo sfondo in questi con questi con questi colori ovviamente lui può permetterselo perché tutti quanti guardano la figura e lo sfondo che sta raccontando qualcosa di veramente particolare viene lasciato in secondo piano giustamente questo qua è anche questo vediamo le dimensioni sono molto abbastanza grande un metro e 15 per 89 centimetri e sta al metropolitan new york e sta al metropolitan di new york adesso andiamo a vedere perché io non mi ricordo cosa c'è però volevo andare abbastanza in sequenza ecco per esempio parlavamo di realismo allora questo qui è un dipinto che mané nel 1864 mané presenta al salon ed è il cristo morto e gli angeli è 179 centimetri per 149 ed è secondo me straordinario ci parla chiaramente di un mané che dipinge ecco perché ve l'ho fatto vedere immediatamente vicino al dipinto che abbiamo visto poco fa della cavallerizza di Courbet perché proprio lo dipinge un po' di tempo dopo però ovviamente con il suo stile lo vediamo qua che le pennellate come sono più morbide e ci raccontano non la gravità ma proprio la morbidezza e il volume lo riconosciamo subito mané in queste pennellate Baudelaire gli disse a un certo punto ma guarda che hai sbagliato parte del costato perché Cristo è stato è stato è stato ferito sulla parte sinistra però lui ha detto va bene ma non importa questo punto lo consegno così anche se mi renderanno dietro lo consegno così ecco come facciamo a non parlare di realismo quando noi vediamo un'immagine di questo tipo un'immagine di questo tipo ci fa sprofondare nel realismo perché ci racconta veramente un'esperienza un'esperienza di morte reale di abbandono al di là delle convenzioni e questo viene fatto con una pittura a suo modo una pittura che Manet chiaramente mutua dalla sua provenienza accademica però comincia a capire che qualcosa si sta muovendo non si è ancora avvicinato agli impressionisti però ha capito che la strada è quella della rappresentazione di qualcosa che che abbiamo esperito qualcosa di cui possiamo essere di cui possiamo essere testimoni essere stati testimoni e quindi dare questa testimonianza agli altri dentro questi dipinti qua c'è molto molto da imparare proprio per chi non so di dipingere per la prima volta dei 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 panneggi guardate per esempio questo colore qui questo bianco qui è stato insieme questo giallo viene dato dopo che questo bianco è asciugato e allora si interviene con questo giallo e questo qua va un poco di diluente quindi vedete che ha questo movimento qui che denota proprio la consistenza del colore quindi ci fa percepire anche qualcosa di qualcosa di morbido rispetto alla pelle e questo lo ritroviamo anche qui e lo ritroviamo anche qui guardate queste pennellate proprio su una superficie secca su una superficie su una superficie asciutta qui proprio non gli è interessato minimamente di sporcare l'azzurro con il bianco e quindi l'ho lasciato così perché era in secondo piano niente ho voluto farvi vedere questo anche per per farvi capire che dentro una realtà come quella di corbe le diciamo le parti che vengono in campo gli attori che vengono in campo sono molti sono moltissimi e quindi e quindi la possibilità che noi abbiamo di capire queste persone come sono inserite all'interno della società e anche delle amicizie che hanno ci dà diciamo la misura di quanto potesse di che pofermento ci poteva essere in quel periodo ecco adesso questo qui è un altro dipinto di corbe che si comincia a avvicinare a quello che poi sarà secondo me il suo momento più alto e più coraggioso da un punto di vista pittorico questo qua si chiama chiaramente perché poi hanno dei titoli che sono abbastanza banali perché non hanno niente altro che da ma dire ci che quello che è e il dipinto si intitola il mare calmo e del 1869 quindi siamo lì con il con il con il dipinto di di manè qualche anno dopo quindi monè impressionisti cominci cominciano già a lavorare eccetera eccetera ed è 59 per 73 cm quindi le dimensioni si fanno anche si fanno anche molto simili ai ovviamente alle tele che lui può trovare e vedete può comprare ovviamente vedete che questi toni sono straordinari e fortuna che noi abbiamo la possibilità di avere una fotografia che ci fa avvicinare al dipinto perché riusciamo a capire come ovviamente questa preparazione di bianco di d'argento abbia potuto su uno sfondo ahimè abbastanza abbastanza magari non abbastanza sollecitato poter poter aver procurato queste queste screpolature che però devo dire non danno fastidio l'importante noi che riusciamo veramente accogliere quelle che sono le bellezze questo dipinto al di là della della conservazione guardate questa sapiente luce sulle 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 che abbiamo qui e questo qui è fatto di tocchi straordinari di pennello molto pieni di colore quasi appoggiati sulla tela e con una sapiente e molto molto paziente diminuzione dal bianco fino alle azzurri mantenendo sempre questo verde di sottofondo perché vedete il verde che che acqua verde acqua marina che qua è lo stesso che abbiamo qua quello che cambia sono questi bianchi che sono sopra eccoli qua questo uccello e poi ci sono queste navi e questo qua ve l'ho fatto vedere proprio per farvi vedere come ad un certo punto tutto si complica nel senso proprio il club stesso si complica proprio andando a scavare e ad entrare proprio più di più nella materia sempre di più il mare calmo adesso andiamo a vedere un altro dipinto ecco questo qua invece è un dipinto del aspettate che l'ho scritto perché ovviamente devo il mare questo qua è il mare ed è un dipinto di quattro anni prima ovviamente e se prima con il mare calmo lui ci ha raccontato la sua sapienza qua ci racconta quello che lui invece c'è l'altra parte quella che viene fuori in maniera proprio come dire ecco quando lui fa gli spaccatori di pietre quella intensità della vita quella quella difficoltà della vita ed ovviamente è sempre un atteggiamento romantico questo però gli fa scoprire quanto lui di questa materia che vede della terra può riuscire a mettere sul dipinto per rendere anche le cose più più meno solide più solide ancora perché rappresentate con la pittura è qui che per la prima volta secondo me si ha coscienza del fatto che la pittura può rappresentare se stessa anche era già prima ovviamente in tutti i pittori c'è questa consapevolezza però qua c'è proprio diciamo la scelta di di costruire il dipinto partendo proprio dalla densità del colore ma poi il colore sarà ancora ancora più denso come poi andremo a vedere vedete qua comincia comincia il bianco ad essere più denso le rocce si fanno scure il cielo si fa scuro perché sono gli stessi colori che se noi ci pensiamo lui può aver usato per lo spaccapietre però qua abbiamo questo chiaro abbiamo questi macchie di colore che che già ci raccontano moltissimo perché ci ci fanno capire quanto lui aveva potuto osservare bene il il mare però io vi ho fatto vedere questo dipinto perché volevo farvi vedere quest'altro ecco questo qua è uno dei dipinti diciamo più estremi tra virgolette di di courbet e si intitola il mare in tempesta in tempesta è della portland art museum è del 1869 ed è 55 per 30 e adesso noi lo andiamo a vedere da vicino guardiamo quanta pittura c'è qui sopra vedete che quasi lui è come se avesse continuato a dipingere dopo ancora dopo aver firmato addirittura il quadro e qua nonostante la fotografia sia 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 piatta però qua non ha potuto fare a meno di raccontarci questi pezzi questi grumi di colore che lui ha messo qui per raccontare la natura e cosa sono questi grumi di colore se non se non la terra proprio che lui vive se non le mani nella terra che ha visto mettere se non una certa sua un certo suo una certa sua forza che vuol dare dipinti per poter raccontare qualcosa di reale ma che cos'è questo reale lui vuol raccontare perché qua poi i critici smettono di chiamarlo realista e non sanno più come chiamarlo e questa è la grande cosa perché finché ci si poteva attaccare al soggetto allora hanno chiamato courbet realista ma quando lui arriva a queste vette secondo me non hanno più possibilità di definirlo lo definiscono si possono definirlo come un pittore come una persona che ha precorso un certo tempo no è una persona che è riuscita a capire che la pittura poteva servire ad essere se stessa ad essere quel grumo di colore e essere riconosciuto come quel grumo di colore perché noi lo possiamo sì questo vedere come un'onda però non possiamo dimenticare che questi sono grumi di colore e proprio ci piace vederli così ci piace vedere questo straccio per esempio guardate un po' in questo caso questo straccio che pieno di bianco viene viene premuto qua sul su questa parte del dipinto e questi piccoli segni che vengono a definire questo quest'onda io veramente mi 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 viene quasi da da preferirlo quasi questo pezzetto a tutto quanto il quadro intero no questi sono dipinti che sono fatti in studio sono fatti in studio io non ho quasi non ho difficoltà nel pensare che questo fosse proprio fatto di invenzione su un ricordo del mare non ho proprio nessun tipo di fatica a pensarlo è veramente starei ora a guardare questo dipinto ma se voi ovviamente secondo me varrebbe proprio dicendo una follia il viaggio a portland per vedere questo dipinto guardate che strati che strati di colore che ci sono qua sopra per disegnare questa che ovviamente lui prende a pretesto come un agente naturale per raccontare proprio la sua pittura e continua a farlo anche con i quadri veramente non naturali questo lo continua a fare perfettamente questo qua invece ed è il contrario di quello che abbiamo visto questo qua facciamo dei salti indietro e in avanti per riuscire a capire di cosa parliamo perché se noi guardiamo questo dipinto qua fatichiamo a pensare che questo possa essere lo stesso autore che ha dipinto questo però se noi invece andiamo a vederlo proprio da vicino queste queste damoiselles sul 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 bordo della Senna questo quadro che si chiama che si trova al al museo della della belle arte della città di Parigi questo quadro qua allora vediamo che che ha se andiamo a vederlo vicino già tutta la possibilità di poterci far capire quello che verrà non è molto possibile andare molto 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 vicino però la pittura come questa la pittura che lui vedete qua abbiamo parlato del velo prima e lui ha questo questo tipo di soluzione per il velo vedete questo tipo di pittura qui ce lo fa ricordare e viene subito in mente questo quadro ovviamente che viene fatto un pochino prima delle di ginelle sulle erbe di manet come lui possa averlo visto questo dipinto e abbiamo anche la barca qui ecco questo ve lo so più ve l'ho proprio fatto vedere non tanto per raccontarvi questo dipinto la bellezza o il significato di questo dipinto ma per raccontarvi la strada che è stata fatta da un dipinto di questo tipo a un dipinto di quest'altro poi vi sono vediamo qua ecco qui è qui è un altro dipinto che è questo questo quadro è un quadro che a me piace molto è un quadro anche questo di quegli anni del 65 è un quadro che rappresenta la barca da pesca ma rappresenta di più che una barca da pesca rappresenta qualcosa che veramente sta in quel momento che non è molto sicura non è molto molto in grado di poter portare a termine un viaggio forse e quindi lui in questo dipinto ci restituisce una pittura soprattutto non tanto in queste parti dove lui ovviamente racconta in maniera abbastanza esatta quello 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 che è ma sotto sotto di lei che noi vediamo una terra che non assomiglia tanto a quelle onde però ci fa vedere una pittura molto molto interessata proprio a alla sensazione vera della sabbia e di quel momento se lui dice io con la mia pittura posso raccontare con i soggetti reali che mi hanno colpito però se aggiungo alla mia pittura carattere posso anche trasmettere l'emozione trasmettere la situazione proprio della 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 con il tono della mia pittura della drammaticità anche del momento che io sto vivendo però sempre di pittura si tratta guardate questo tipo di intervento quando io nei dipinti vi dico di cercare di prima di tutto di preparare il quadro in maniera tale anche con molti strati di colore in maniera tale che il colore che mettete sopra anche se quello che sta sotto è un po non è totalmente asciutto favorisce la commissione di questi ecco è questo proprio che voglio dire perché proprio il colore si fa pieno ed il gesto diventa fondamentale e qui abbiamo questa questo colore che che riempie di di atmosfera particolare questo questo lavoro poi vi ho proprio vi presento altri due dipinti altri due pittori un pittore molto caro che 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 jean françois millet che qui in questa acquaforte degli scavatori seguì un acquaforte degli scavatori ci racconta un altro modo di di percepire veramente la realtà colpito anche lui dalle vicende chiaramente i due si conoscevano anche perché lui pone il suo accento e la sua attenzione verso quella che è la fatica e verso quella che è il racconto non più aulico della campagna e del bucolico festoso ma proprio di una campagna dove la fatica si fa segno e il segno diventa un tramite per poter rappresentare questa fatica diciamo che Van Gogh guarda molto di più a mille sicuramente oppure anche a Courbet più di quanto possa guardare agli impressionisti guardiamo poi anche poi anche poi nel dettaglio e riusciamo a capire acquaforte posso fare un cenno d'acquaforte allora questa qui è una lastra di di zinco se voi prendete una lastra di zinco mettete sopra una cera scura e la fate affumicare una candela questa cera che ricopre questa cera che ricopre la lastra di zinco rende la lastra di zinco totalmente impermeabile all'acido le parti scoperte di questa lastra succederà che verranno quando verrà messa dentro l'acido andranno a corrodere la parte che viene di questa cera che viene elevata e quindi quello che è praticamente quando voi fate un segno con la punta senza fare un solco nello zinco ma solo togliendo la cera voi avete un segno bianco ecco questo segno bianco corrisponde a un segno nero perché ovviamente voi fate un negativo di questo allora fatto questo voi immergete questa lastra dentro l'acido e l'acido andrà nelle parti in cui non trova la cera che sono i segni che voi avete lasciato e allora costruirà il solco poi voi inchiostrate pulite la lastra completamente troverete delle parti ovviamente che l'acido ha corroso e quindi voi la inchiostrerete la metterete sotto un rullo e uscirà questo e questa ovviamente si può riprodurre in tanti esemplari guardate qua anche se sono scure le mani come sono e questi 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 qua sono tratteggi che ci insegnano veramente a capire come può essere trattato il chiaroscuro in maniera omogenea e ci raccontano di una forza di una determinazione di un momento storico in cui in cui tutto sta per compiersi sì io penso saverio che sia 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 così nel senso quando si ha una padronanza tale di mezzi si sceglie qualsiasi cosa questo qua è un racconto ovviamente un racconto di qualche cosa però questo racconto è eseguito con una sorprendente lucidità se noi pensiamo anche ai dipinti del primo del novecento anche americani dove vi è proprio tutta una cultura di pittori che rappresentano il lavoro che dipingono i lavoratori ecco questo possiamo dire che che riesce veramente a darci un'idea di dove tutto questo può sia sia avvenuto per esempio anche noi nel primo in primo novecento quando noi rappresentiamo anche se simbolicamente voglio dire pelizza volpedo rappresenta il quarto stato però rappresenta anche la vita in campagna e quando lui la rappresenta non la rappresenta in maniera audica perché ovviamente questa cosa poi esplode in tutta in tutta Europa un altro autore interessante che mi piaceva mostrarvi è lui questo qua non è famoso tanto per i dipinti è famoso per per le caricature sia in disegno che in modellato e questo autore si chiama Honoré Dommier e questo autore fa un dipinto che ovviamente si intitola Viaggio in terza classe ed è un dipinto del 63, 863, 865 e 65 per 90 ed è nella Galleria Nazionale del Kanda ovviamente anche lui ha il suo modo di dipingere che poi lo troverete anche nel suo modo di disegnare è molto molto riconoscibile è molto riconoscibile ha un tratto, vedete che è un disegnatore quindi pittura ce n'è poca c'è molto più disegno disegno nel senso che è attento proprio al chiaro e all'oscuro e usa il colore proprio solo per far uscire fuori le luci che sono variamente colorate e ovviamente ci racconta attraverso il suo segno qualcosa di assolutamente reale e non di inventato o di amplificato perché noi non immaginiamo adesso come ad esempio le città le grandi città, Parigi, Londra fossero come fossero le condizioni dei lavoratori le condizioni delle classi più disagiate in quelle città noi non abbiamo neanche idea rispetto a quello che viviamo oggi proprio il fatto di voler mostrare questo è chiaramente gioca anche un impegno sociale nella pittura non possiamo fare a meno di notare come sia Courbet sia Daumier sia Millet abbiano sottendano anche quando rappresentano certi temi anche la possibilità di agire da un punto di vista sociale anche di raccontare e di far leva sulla coscienza delle persone che guardano questi dipinti un dipinto realistico però costruito in studio mi viene in mente però è inventato chiaramente molto molto inventato e che ha fatto molto scalpore ovviamente perché era chiaro che lo facesse è Géricault infatti Géricault Courbet e questi Manet eccetera eccetera proseguono proprio come un filo rosso che li lega attraverso proprio tutta la storia e della rappresentazione diciamo del sì del realismo perché poi lo hanno chiamato così perché poi lui scrive Courbet scrive questa lettera dove parla di realismo per cui gli appioppano questa etichetta ovviamente bisogna stare molto attenti lui lo dice in una lettera guarda sono stato anche ingenuo ho detto questa cosa adesso come nel 1830 hanno inventato il romanticismo adesso inventano il realismo e quindi questo piccolo viaggio che vi ho fatto fare oggi non è un viaggio fra i colori come avete visto colori non ne abbiamo visto moltissimi però è un viaggio sulla possibilità che hanno che ha la nostra abitura di parlare attraverso attraverso quello che vediamo perché anche il racconto di pochi oggetti che noi possiamo dipingere ci possono raccontare qualcosa di noi non necessariamente dipingendo quello che vediamo per quello che vediamo però fare anche una piccola ricerca anche di ciò che ci può rappresentare quando li disegniamo e soprattutto e questo lo dico per quelli che imparano e si mettono in gioco per le prime volte non cominciate da soggetti complicati non mettete tantissime cose nel dipinto perché non servono la cosa fondamentale è dipingere una cosa ma dipingerla bene anche piccola magari ingrandita ma dipingerla bene è quella la grande bellezza io vedo delle persone che ovviamente prendono una fotografia dove c'è tantissime cose dove ci sono tantissime cose la squadrettano la ricopiano sulla tela e poi prendono i colori li avvicinano tra di loro non so quello qua è dipinto di giallo allora lo adopero e dipingo in quella maniera lì vicino c'è quello dipinto di rosso e quindi no non è così bisogna preparare la tela in modo tale che noi possiamo essere sicuri di riuscire a portarla tutta in maniera omogenea e di incastrare tutto in maniera omogenea e quindi questo è questo è ciò che è ciò che io che io vorrei che voi faceste è vero è vero è vero Marina sì voglio dire i pittori ci sono perché poi ovviamente dal dalla dalla diciamo dalla dalla pittura quando poi si comincia a a a a venire fuori con certi temi e poi comincia a esserci una una possibilità proprio di rappresentare anche noi vediamo proprio tutto quello per esempio non so la diversità che ci sono di temi già per esempio tra Verdi e magari Puccini e chiaramente lui simbolicamente Verdi racconta anche della realtà contemporanea però Puccini riesce proprio ad andarci dentro e ci vuole trasportare dentro questo poi apre magari al termine del melodramma però inizia proprio una presa di coscienza della possibilità di rappresentare anche la realtà il realismo a toni a toni drammatici perché perché quello che loro vedevano era che loro che loro andavano a vedere che avevano intenzione di andare a dipingere era in quel momento drammatico e quindi usavano quei tipi di toni però poi quando lui va in Svizzera per esempio negli ultimi anni della sua vita Courbet e questo è la diciamo lo stimolo che vi do di andare a cercare Gustave Courbet e di vedere Gustave Courbet che riesce a fare che riesce a fare che riesce a fare un percorso molto più colorato ovviamente non è che lui abbandona i colori in quel momento lì si occupa di un certo tipo di pittura perché io vi ho fatto vedere un certo tipo di quadri poi ovviamente non è che lui abbandoni il colore io sono sono felice di di aver fatto questa questo piccolo viaggio spero che sia stato di stimolo dicevo e che andate a cercarvi questi questi personaggi e soprattutto andate a vedere la vita se vi interessa di Courbet e di Domier e andate a vedere come si possono incastrare e anche come si possono incastrare con il suo con il loro momento proprio storico che è importantissimo molti ci sono molti libri che parlano della vita quotidiana del periodo anche se sono un poco superficiali a volte però è importante io ai ragazzi a scuola lo dico sempre quando mi capita lo dico sempre quando si studia la storia la storia dell'arte bisogna studiare la storia delle persone bisogna immaginare che le persone che vivono in quel momento sono persone come noi che mangiano che bevono che si sentono male che hanno mal di pancia mal di testa che non sopportano che si innamorano che sono stanche che sono disilluse proprio esattamente come noi non è che sono delle macchine che fabbricano delle opere adesso vi lascio perché ovviamente questo discorso è stato abbastanza tosto abbastanza pieno questa sera e sicuramente poi ovviamente procederemo la prossima volta con cose di molto più colorate molto più molto più molto più vibrante però ci tenevo a fare questa lezione dopo che ho fatto quella del velo del video della volta scorsa perché volevo raccontare anche se brevemente questa piccola questa piccolo scorcio di esistenza vi ringrazio tantissimo di essere stati qui veramente ad ascoltarmi e vi abbraccio tutti perché per me è veramente importante è importante quando faccio qualcosa sapere che ci siete voi dall'altra parte che poi l'ascolterete e che mi dovete dare dei giudizi spietatissimi ve ne prego ok vi ringrazio a tutti voi grazie Rosanna Cristina Silvia saluto tutti Lino tutti quanti Daniela tutti quanti e mi raccomando ditelo che c'è questo canale diffondete la notizia e che le persone si iscrivano che possiamo essere sempre di più e possiamo fare delle bellissime cose insieme vi ringrazio e non dimenticate sempre di commentare come fate sempre sotto la descrizione buona serata a tutte e a tutti grazie a voi grazie a voi buona serata buona serata a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti